Ciao a tutti, siamo qui con Piera Mongiguerra, regista dell'Istuardo Soldà che andrà in scena sabato 22 al Teatro Fraschini di Pavia e Tindaro Capuano, l'ideatore di questo progetto intorno all'Istuardo Soldà. Perché riprendere l'Istuardo Soldà e che tipo di lavoro c'è dietro il vostro approccio? Beh, diciamo l'occasione viene data dal centenario che ricorre proprio in questi giorni, era il settembre del 1918 a Lausanna quando fu rappresentato per la prima volta e quindi a distanza di cento anni ci ritroviamo tra l'altro con gli stessi strumenti che ascoltava Stradinsky in quell'epoca perché abbiamo voluto dare un taglio filologico a questo spettacolo, quindi noi della parte musicale ci siamo interessati a ritrovare gli strumenti della fine dell'Ottocento e inizio nel novecento. Quindi abbiamo in realtà un organico che si forma di violino, contrabbasso, clarinetto fagotto, cornetta a pistoni, trombone e percussioni. Tutti questi strumenti sono organizzati esattamente per come erano all'epoca di Stradinsky, per cui violino e contrabbasso sono montati con le corde di Pudello. Il clarinetto è della fine dell'Ottocento. Abbiamo la particolarità di avere questo fagotto francese anch'esso della fine dell'Ottocento e poi la cornetta a pistoni che è uno strumento che è un po' sparito nella forma in cui lo conosceva Stradinsky. Un trombone più piccolo rispetto a quello che conosciamo oggi e un set di percussioni anch'esso più piccolo. Tutto questo ci dà la possibilità di avere dei suoni un pochino più definiti, con una pronuncia più chiara. Diciamo che è più facile mettere in risalto le articolazioni che scrive Stradinsky in particolare. Sono delle articolazioni molto precise e molto dettagliate. Con questi strumenti è più facile parlare e più facile articolare. Quindi l'idea è stata appunto quella di avvicinarci il più possibile all'estetica musicale perché aveva in mente Stradinsky all'epoca. Un'idea che è anche molto connessa al lavoro che svolge Ghislieri Musica. Infatti questo progetto, Ghislieri Musica si occupa di musica antica, questo progetto nasce in residenza al Collegio Ghislieri e quindi il legame anche con questo. Tra l'altro quindi il Collegio Ghislieri ci sta ospitando in questi giorni per le prove e ci ha ospitato anche un paio di settimane fa, prima del debutto in Polonia al festival di Roskla. Ghislieri normalmente si associa al barocco, così come gli strumenti d'epoca vengono normalmente associati al periodo barocco classico. In questo caso invece ci spostiamo nel Novecento ma utilizziamo anche gli strumenti d'epoca. E comunque è una cosa molto interessante ascoltarli perché nonostante apparentemente possano sembrare simili, molto simili agli strumenti moderni, in realtà appunto parlano in modo diverso. La stessa cosa è stata fatta anche per la parte scenica, ma ce la spiegherà meglio insomma a piedi della rivista. Sì, parallelamente alla ricerca filologica musicale si è mossa la ricerca teatrale, in quanto ci siamo informati sulla prima messa in scena appunto nel 1918, nel settembre appunto del 1918 e siamo andati a ricercare attraverso le fonti in che modo era stato appunto portato in scena e l'idea originaria di Stravinsky e di Ramù, quella di una baracca, lavorare a una baracca, quindi con un organico molto agile e con poche cose che erano burattini e pochi danzatori che raccontassero questa storia, questa storia che origina da una fiaba russa. Così noi abbiamo mostro diciamo i primi passi nell'ideare questo progetto pensando a un organico molto semplice, una messa in scena molto semplice come quella che vedrete domani sera per poterla portare prima ancora di sapere dove l'avremmo fatto e paradossalmente come accadde a Stravinsky, non riuscì a portarlo in giro nei villaggi svizzeri che aveva immaginato, ma finì al grande teatro d'opera di Losanna. Così noi siamo finiti al teatro Fraschini, un bellissimo teatro in cui però vedrete la nostra baracca, cioè vedrete la povertà di questo teatro, fatto di questi teli bianchi dietro cui succedono delle cose, dietro cui ci sono delle ombre, davanti al quale un mimo e la voce del narratore ci guidano nella storia. L'idea di lavorare con materiali così poveri e semplici rispecchia sicuramente l'idea originaria, ma permette anche di essere più vicini al concetto della favola, cioè cose che succedono in modo molto immaginifico, che appaiono, che scompaiono. La cosa che interessa a me e secondo me era molto utile in questa messa in scena era far lavorare anche la fantasia dello spettatore, cioè non dare una scenografia completa, ma attraverso poche cose farle cambiare di significato, farle mutare molto velocemente e dare quello stupore che è appunto tipico anche della favola e su cui ci sembrava utile lavorare. Direi che non ci resta che dare appuntamento a domani sera, 22 settembre, a Teatro Praschini alle 21 per questa nuova Historia del Soldato. Grazie.